Bene, su Wisco.t il nostro sito. Abbiamo già da 10 giorni ormai, dal 5 dicembre, iniziato un servizio davvero molto interessante che è seguito proprio da Manuela Negro che è strategist per Trading Room Roma e ogni giorno voi tra l'altro potete iscrivere andando su Wisco.t, poi cliccando su Assistenza e poi andando a cliccare su Webinar sui corsi gratuiti trovate il calendario completo. E la cosa interessante è che in cima alla lista rimarrà appunto questo, cui voi vi potete iscrivere. Quindi per questo caso l'iscrizione è univoca, quindi vi iscrivete a questo servizio e ogni giorno, da lunedì a venerdì ovviamente, dalle 9.15 per circa 30 minuti, Manuela va a vedere quali sono le notizie macroeconomiche più importanti della giornata e poi soprattutto a seguire la propria operatività. Allora, più o meno su cosa verte? So che verte su 26 valute, su timeframe 4 ore, qual è la logica di fondo del tuo modus operandi, se già ti posso chiedere così un po' direttamente, Manuela? Sì sì sì, io seguo 26 cross valutari, seguo diverse strategie sia intraday che multiday, quindi durante la sessione darò una lettura, la mia lettura almeno dei grafici, nell'ottica appunto della gestione, della creazione di nuove posizioni, intanto sulle sette valute principali. E poi comunque individuo i segnali che ho avuto io d'ingresso e come gestisco le operazioni anche sugli altri cross valutari. Naturalmente la chat è interattiva e possiamo rispondere anche alle domande su alcuni cross magari che vengono rifatte dagli utenti. Silvio dice la sto seguendo, la trovo molto preparata, mi piace nella sua semplicità, complimenti. Grazie Silvio. E poi è normale che noi cerchiamo dal punto di vista di Swissco, quello che noi cerchiamo di fare, di dare contenuti, di dare qualità, di dare idee di trading, di far spiegare da ogni singola persona che faccia trading con una certa preparazione e con un po' di eseguiti sulle spalle, possa portare il suo contributo. Perché ovviamente nel trading tante volte è difficile magari trovarsi soli davanti a un monitor, quindi quello che noi davvero cerchiamo di fare è di costruire un percorso formativo dove la condivisione di idee di trading è davvero al centro di tutto. Questa sera di cosa parliamo? Di analisi ciclica, del mercato in generale, di tutto un po'? No, stasera parliamo in modo particolare di analisi ciclica e di come l'analisi ciclica ci può aiutare nell'analisi tecnica, nell'analisi quotidiana. Per me la definizione dei cicli è fondamentale nella mia almeno strategia operativa, mi definisce i tempi della posizione, i tempi di ingresso, i tempi di gestione dell'operazione e quindi io senza l'analisi ciclica personalmente non riesco ad operare. Tra l'altro mi è di supporto anche per la definizione delle linee di supporto, dei canali, delle trend line che diventano molto più affidabili e quindi vorrei spiegare questa sera quali sono le metodologie che uso per guardare i mercati in un'ottica ciclica. Quindi facciamo una piccola presentazione iniziale, magari se vai sulle slide, giusto per dare una piccola presentazione. Allora, chiariamo una cosa, nel senso, Swissquot è in collaborazione con Trading Room Roma, ok? Quindi io sono Stefano Gianti, io lavoro per Swissquot, Manuela è la strategist di Trading Room Roma, quindi abbiamo una collaborazione, ok? Quindi magari anche se faccio vedere brevemente chi è Swissquot, come già sapete noi siamo un intermediario finanziario, siamo a Londra, argomentati dalla Finanza Condotta Authority, detenuti da Swissquot Bank, la holding quota sull'istino di Zurigo con una capitalizzazione di circa mezzo miliardo di franchi, poi ovviamente dipende dal prezzo del titolo e ci sono oltre 16 miliardi di attivi sotto gestione. È importante ribadire il fatto che diamo massima tutela a chi decide di fare trading con noi perché ricordatevi che di fatto voi quando aprite un conto trading, dato che la società di interminazione finanziaria non può detenere liquidità, noi mettiamo i soldi sulla banca, sono segregati, quindi dobbiamo rispettare quello che la Finanza Condotta Authority impone, che è l'autorità di vigilanza più autorevole a livello europeo, senza un bravo di dubbio perché siamo regolamentati in Italia di conseguenza della Consob e più siamo detenuti al 100% dalla Banca Svizzera, quindi questo è davvero molto importante, massima solidità alle spalle. Invece Manuela è strategist per Trading Room Roma, qual è l'obiettivo, lo scopo, la missione di Trading Room Roma, Manuela? Allora sì, io vorrei fare una piccola presentazione veloce, giusto per farci conoscere un po', siamo una tra le realtà operative più importanti e indipendenti in Italia, siamo costituiti da un gruppo di trader professionisti che ormai da 10 anni opera quotidianamente su tutti i mercati finanziari e quindi diamo la possibilità a tutti coloro che vogliono crescere nel trading di condividere il nostro percorso quotidiano di attività per diventare dei trader profittevoli e professionisti, quindi il percorso formativo che noi proponiamo si basa proprio sulla condivisione giornaliera della nostra operatività. A questo percorso aggiungiamo una serie di altri servizi di informazione, di formazione online attraverso dei collegamenti diretti, un esempio nella chat che abbiamo organizzato con voi, con Swissquat e quindi il nostro obiettivo è quello di rivolgerci ai trader e agli investitori per farli diventare consapevoli e indipendenti nelle proprie scelte finanziarie. Se adesso possiamo avere intanto l'idea dell'obiettivo di questo incontro, intanto per me è quello di farvi conoscere come è possibile studiare le varie fasi di trend con l'ausilio dell'analisi ciclica e poi definiremo, chiuderemo la sessione con una vera e propria strategia operativa in ambito intraday attualmente, però poi le caratteristiche, le condizioni che saranno individuate saranno poi applicabili anche in maniera speculare alle strategie multiday. La base, il concetto iniziale è che l'analisi ciclica ci deve introdurre un fattore importante che è il fattore tempo che spesso viene trascurato dai trader, anche se in realtà in maniera implicita noi lo guardiamo, ce l'abbiamo sott'occhio ogni momento perché le nostre serie storiche ovviamente sono costruite sul tempo, però di solito non viene preso in considerazione in maniera adeguata nel senso di dover utilizzare il tempo come metodologia, come indicatore intanto per capire quando è il momento di entrare in posizione e quando e come devo gestire la mia posizione. Quindi gli obiettivi che ci poniamo oggi quali sono? Quelli intanto di definire che cos'è un ciclo, di conoscere le sue proprietà, partiamo da alcuni concetti teorici che ci permetteranno di capire poi dopo come costruiamo effettivamente i cicli sul nostro grafico, ho individuato un modo di individuare il ciclo attraverso le medie mobili, vediamo come queste vengono tarate per cercare di adeguarsi ai vittimi del mercato, vediamo come i cicli possiamo combinare con diversi altri strumenti tecnici e poi concluderemo la sessione con la strategia intraday vera e propria. Quindi già Stefano, io intanto a parte il nostro consueto avviso sul rischio, sappiamo che il Forex è un prodotto che viene utilizzato con leva, quindi bisogna comunque essere consapevoli di assicurarsi di aver compreso tutti i rischi prima di procedere con il Forex, lo ripeto, tra l'altro tutte le indicazioni che saranno fornite oggi sono delle nostre opinioni, dei nostri risultati delle nostre operazioni e quindi non è detto che magari possano poi essere ovviamente il frutto di risultati futuri naturalmente sul trading. Quindi partiamo intanto nel definire il nostro ciclo, intanto è importante capire come si deve individuare un ciclo sul nostro grafico, intanto bisogna partire dai due minimi, quindi il ciclo comincia da un minimo e termina da un minimo, ci sono diverse metodologie, quella più attendibile è proprio quella di partire sui minimi, i minimi risultano più affidabili rispetto invece a calcolare il ciclo da massimo a massimo. Quindi le caratteristiche quali sono, cosa ci definisce intanto un ciclo? Prima di tutto l'ampiezza, cioè l'entità del movimento che si è realizzato all'interno di questo ciclo, quindi l'ampiezza è definita in termini di punti, in termini di pip, di movimento che si sono ottenuti. Il tempo invece è dato dal tempo che intercorre tra un minimo e l'altro, quindi mi rappresenta in pratica la durata del ciclo ed è appunto espresso in giorni per esempio. Importante da non trascurare anche la fase, cioè la parte del ciclo in cui mi trovo, cioè la parte rialzista, perché noi vediamo che il ciclo dovendosi calcolare tra i due minimi avrà una parte, una spinta, una fase rialzista che mi porta dal primo minimo sino all'individuazione del massimo del ciclo e poi successivamente una fase ribassista. Questi sono i due elementi che per me sono importanti intanto da monitorare perché vi daranno l'indicazione della direzione che io poi devo seguire nel mio trading. Intanto adesso senza tediarvi su aspetti puramente teorici, cerchiamo di andare un attimo agli elementi pratici, dobbiamo però considerare quali sono i principi di base della filosofia dei cicli. Abbiamo il principio della somma, il principio dell'armonia, della sincronicità e della proporzionalità. Per quanto riguarda la somma, questo si può vedere bene dal grafico, in che cosa consiste il principio della somma, bisogna affermare che tutti i movimenti di prezzo che vengono definiti sono la somma dei movimenti che si realizzano nei sottocicli inferiori, questo perché esiste un principio di ordinamento dei cicli, esistono diversi cicli, partiamo da un ciclo giornaliero, i cicli principali per il trading sono il ciclo giornaliero, il ciclo settimanale e il ciclo trimestrale, per cui il ciclo superiore, per esempio il ciclo trimestrale, è dato, i movimenti, quindi i riferimenti del ciclo superiore sono dati come somma dei cicli inferiori. Vediamo per esempio qui evidente dal grafico che il minimo ad esempio del ciclo superiore, che adesso chiamiamo nell'onda composita C, ad esempio mi dà un valore di meno 15, che è pari quindi alla somma, vediamo, del minimo del ciclo dell'onda B e del minimo dell'onda A, meno 10 più meno 5 mi dà meno 15, quindi la somma dei due sottocicli inferiori mi dà il valore del ciclo superiore e lo stesso vale per i massimi, più 10 meno 5, valore del ciclo superiore più 5. Poi l'altro elemento è la sincronicità e l'armonia del ciclo, che cosa si intende per armonia? La precisazione, scusa Manuela se ti interrompo dato che anche Vittorio è brava che sto in chat, per quanto riguarda le slide, le slide facciamo così, io dopo caricherò le slide su YouTube, nella descrizione lo mettiamo così a me non avete certo, a te va bene Manuela? Ok, sì sì sì, benissimo, telefonisco dopo la sessione. Sì sì, così le carico direttamente sulla registrazione di YouTube che mettiamo sul nostro canale, che trovate ripeto su Swissco.it in basso a destra, cliccate su l'iconcina bianca e rossa di YouTube e poi cliccate su Videos e in ordine cronologico appaiono tutti i video, quindi questo lo troverete per primo. Vai pure avanti, scusa per l'interruzione. Prego, quindi diciamo i due principi che sono quello dell'armonia e della sincronicità, in che cosa consistono? L'armonia consiste nel fatto che dobbiamo tenere presente che le onde e quindi i diversi cicli che sono tra loro collegati per un rapporto di priorità l'uno dall'altro, quindi ad esempio il ciclo settimanale con il ciclo trimestrale con il ciclo giornaliero, questi cicli tra di loro sono legati da un'entità numerica, questa entità è data dal numero 2, cioè vuole dire che se esiste un ciclo che è composto di 20 giorni, il ciclo minore sarà la metà della sua lunghezza, il ciclo superiore sarà il doppio, questo è un elemento importante che adesso andremo poi a valutare sul grafico perché è importante quando si vanno a costruire i cicli. E poi il principio della sincronicità, che cosa significa? Significa che quando un ciclo superiore parte, quindi noi abbiamo un minimo relativo al ciclo superiore, da quel minimo partono anche i cicli inferiori, quindi il minimo del ciclo superiore coincide con i minimi dei cicli inferiori. Vediamo in questo caso nel grafico abbiamo l'onda A che mi dà il ciclo superiore che parte su questo minimo, qui parte anche il ciclo inferiore, naturalmente il ciclo inferiore finirà prima perché appunto per l'armonia e quindi esiste un rapporto di uno a due su due cicli, quindi il ciclo inferiore, il ciclo superiore scusatemi, sarà costituito da due cicli inferiore, dunque finirà prima, ripartirà e finirà nuovamente quando è finito il ciclo superiore. Questo è un elemento molto importante da tenere presente nel momento in cui si costruiscono queste relazioni sul grafico, che comunque adesso andremo a vedere sul grafico stesso. La cosa importante è che il principio della variazione che dobbiamo sempre tenere presente, tutte le caratteristiche del ciclo che abbiamo visto ora, la sommatoria, l'armonia, la sincronia, la proporzionalità, sono delle tendenze tra di loro, non sono delle regole fisse. Noi sappiamo che il mercato è variabile e quindi dobbiamo costruire degli indicatori che devono tener conto di quelle che sono le caratteristiche del ciclo nel momento in cui noi andiamo ad operare e questo è importante, tenendo conto che comunque la nostra strategia la costruiamo sulla base di queste caratteristiche generali che in linea di massima si dovrebbero verificare. Quindi adesso l'obiettivo qual è? È quello di identificare, come facciamo a capire come si costruisce un ciclo, come si individua un ciclo? Io utilizzo uno strumento che è quello delle medie mobili, adesso vediamo come tariamo le medie mobili in maniera tale da agganciare, da appunto da costruire questi indicatori in funzione del ritmo del mercato. Perché in funzione del ritmo? Perché noi abbiamo intanto delle durate medie statistiche dei cicli, il ciclo giornaliero può durare da 0,7 a 1,5 giorni, il ciclo settimanale dura dai 6 ai 9 giorni, il ciclo trimestrale dura dai 57 ai 68 giorni. Questi sono i cicli fondamentali da tenere presente quando noi lavoriamo nel nostro trading, sia intraday che multiday. Ovviamente andando oggi a studiare una strategia intraday, noi dovremmo avere come cicli di riferimento il ciclo giornaliero che è il nostro ciclo operativo e il ciclo invece settimanale che è il ciclo dominante che quindi mi individua la tendenza che io vado a monitorare. Dunque a questo punto dobbiamo costruire le nostre medie mobili. Vediamo un po' di domande, scusa, però poi non vi preoccupate, riassumiamo tutto perché adesso sta mettendo ovviamente le basi e poi teniamo presente che andiamo direttamente sui grafici a vedere tutto in tempo reale e poi vi ricordo che ogni mattina alle 9.15 italiane c'è il nostro appuntamento, abbiamo fatto vedere come ci si iscrive, basta iscriversi e poi ogni giorno dalle 9.15 basta cliccare su quel link che sarà sempre quello e c'è l'appuntamento quotidiano con questa analisi quotidiana, proprio in tempo reale, ecco questo è fantastico. Sì, sì, infatti adesso lo vedremo sul grafico, voglio spiegare solo queste slide perché magari poi saranno utilizzate nel momento in cui andrete a rivedere la registrazione, quindi come costruiamo queste medie? Se P è il periodo del ciclo che io vado ad analizzare, le medie mobili che io devo utilizzare, che quindi mi vanno a spiegare i movimenti del ciclo, devono essere P mezzi, P quarti e P ottavi, quindi in questo modo io dimensiono l'indicatore al ritmo di mercato. Che cosa significa? Capisco che magari adesso può sembrare tutto un po' confuso, scendiamo nel calcolo preciso. Allora intanto vorrei fare una considerazione, il ciclo io lo posso valutare su qualsiasi time frame, quindi il ciclo giornaliero lo posso studiare sul time frame orario, sul time frame a 4 ore, ovviamente non sul time frame giornaliero perché i dati sono molto sintetizzati, però su tutti i time frame inferiori io posso studiare il ciclo giornaliero. Il ciclo settimanale e il ciclo trimestrale lo posso studiare su qualsiasi time frame, sull'H4, sul giornaliero, l'importante è tarare le medie in maniera opportuna. Come si tarano? Supponiamo di voler lavorare sul time frame orario H1, in H1, allora se io voglio studiare il mio ciclo giornaliero devo considerare qual è la giornata, naturalmente io mi occupo di Forex, quindi farò un'analisi relativa al mercato valutario. Il mercato valutario in realtà dobbiamo considerare un aspetto molto importante, è vero che è aperto 24 ore al giorno, ma in realtà l'orario per le valute ovviamente europee, l'orario da considerare dalle 8 del mattino fino alle 22 della sera, quindi in realtà parliamo di 16 ore di contrattazione che noi andiamo a studiare, tutto ciò che succede dopo le 22 o prima delle 8 in realtà non ha validità dal punto di vista operativo, tant'è che nella nostra strategia in 3D spesso dico di non tener conto dei segnali appunto in quell'orario, a meno che non operiamo con lo yen, col dollaro neozelandese e col dollaro australiano, ovviamente per le quali le 16 ore partono da un orario differente, naturalmente si muovono durante la notte. Comunque adesso cerchiamo di sintetizzare giusto per dare dei concetti di base da utilizzare poi anche da parte vostra, quindi le medie che io vado a utilizzare, se io vado a considerare un ciclo giornaliero è composto da 16 ore, da 16 ore perché 16 ore stiamo parlando del time frame orario, quindi di quante candele per un giorno ci sono sul time frame, quindi se io dovessi rapportarlo al grafico a 4 ore dovrei avere non 16 come valore, ma dovrei avere 4 ovviamente, quindi comunque al di là di questo partiamo dall'H1, 1 per 16 diviso 2 perché P mezzi sono una media esponenziale a 8 periodi che è la media lunga, una media esponenziale a 4 e una media esponenziale a 2 periodi. Allora, a questo punto, prima di passare a questo aspetto vorrei far vedere proprio il grafico, perché io ho in sostanza, vediamo se riesco a visualizzare bene, ecco ce l'ho fatta, allora se io vedo, vado a studiare un grafico orario, ho utilizzato due time frame perché mi è più comodo, ho aperto un cross a causa Euro GBP, giusto per non sporcare le analisi che abbiamo fatto sugli altri cross e che facciamo sugli altri cross durante la giornata. Che cosa succede? Allora, io voglio studiare il ciclo giornaliero, lo voglio evidenziare, allora studio quelle 4 medie così come abbiamo visto prima, la media a 8 che ho fatto colorata di azzurro scuro, la media a 4 che è la media rossa e la media 1, quella più veloce, è la media arancione. Queste medie mi definiscono il ciclo giornaliero, il ciclo settimanale che è il ciclo prioritario che mi dà la direzione è quello che io definisco sul grafico a 4 ore, con lo stesso procedimento che abbiamo visto prima, le medie da utilizzare sono la media a 16 periodi, la media a 8 periodi e la media a 4 periodi. Che cosa mi dice dunque il nostro ciclo settimanale? Abbiamo detto che questo ci dà l'indicazione, la direzione da monitorare, noi vediamo, andiamo se riesco a prendere una penna, noi vediamo che qui il ciclo va da un minimo, quindi qui ci segna un minimo la nostra media, vediamo la linea azzurra, quindi il minimo è rappresentato da questo livello di prezzo, che tra l'altro mi viene confermato dall'incrocio, vediamo delle due medie, la media a 8 e la media a 4, l'incrocio delle medie mi dà l'indicazione che è stato segnato un minimo, questo è il minimo del nostro ciclo di riferimento, qui abbiamo il nostro massimo del ciclo di riferimento, anche qui l'incrocio delle due medie veloci mi dà la conferma di questo massimo e qui ancora siamo in una fase, qui è stato segnato un altro minimo dove abbiamo avuto l'incrocio e quindi questo è un primo ciclo, scusatemi così cancello, ecco, quindi questo è il primo ciclo, lo faccio rosso, che noi andiamo a monitorare, i riferimenti sono minimo, minimo e massimo, quello che mi interessa è capire in che fase del ciclo mi trovo, in che fase del ciclo mi trovo ora, qui vediamo che questo minimo che è segnato, che è dato la fine del ciclo precedente, ovviamente costituisce l'inizio del nuovo ciclo, vediamo che infatti il minimo è stato confermato dall'incrocio delle due medie veloci, quindi qui abbiamo un nuovo minimo, qui abbiamo una fase di massimo, anche qui il massimo è stato già segnato, vediamo le medie hanno incrociato e ora siamo in una fase di discesa, quindi la fase che serve per andare a definire il nuovo minimo, anche se vediamo che la candela poi che si è realizzata, che si è chiusa 4 ore fa, appunto una candela che già pare che stia abbozzando una fase di salita, però ancora la conferma precisa non l'abbiamo avuta perché le medie ancora non si sono incrociate. E che cosa vuole dire questo a questo punto? Come lo sfrutto dal punto di vista operativo? Dunque, se io mi trovo qui, vediamo che qui quando ho la conferma più che altro, vediamo il 14 di dicembre, io la conferma che è stato segnato un massimo, ciò vuole dire che inizia una fase negativa, naturalmente sono in un trend discendente, quindi il trend che io andrò a seguire sarà esclusivamente un trend discendente, allora il mio ciclo operativo è il ciclo giornaliero, dunque passo sul grafico orario, cancello un attimo i disegni precedenti, passo sul grafico orario, dal 14 dicembre in poi io andrò a seguire, ad implementare operazioni esclusivamente ribassiste, quindi che cosa vuole dire? Che andrò ad individuare i massimi del ciclo giornaliero per poter intervenire al ribasso, su ogni massimo del ciclo giornaliero io interverrò a ribasso, dunque interverrò a ribasso qui, perché qui ho la conferma di massimo, interverrò a ribasso qui, quando ho un altro incrocio, vediamo di media, interverrò a ribasso qui e ora che cosa faccio? Ora vediamo che abbiamo un incrocio al rialzo, vediamo se riesco a cambiare il colore della penna, sì, allora qui abbiamo, facciamolo nero se non si confonde con la nostra media, qui ho un minimo che è stato segnato e ho anche un incrocio di media che è già stato realizzato al rialzo, ciò vuole dire che siamo in una fase di salita, bene questa fase di salita, perché adesso mi chiederete, allora qui che dobbiamo fare, dobbiamo entrare al ribasso? No, perché comunque l'analisi ciclica deve essere combinata con l'analisi tecnica, che cosa vuole dire? Se io qui ho un minimo, potenzialmente abbiamo visto che il ciclo precedente è ancora in una fase ribassista, anche se abbiamo visto che sta già iniziando a cambiare, però l'indicazione ancora la conferma, in realtà non l'ha avuta, io mi muovo solo su conferme, però dal punto di vista sul time frame inferiore, quindi in H1 a questo punto, sul mio grafico giornaliero, sto vedendo che le medie hanno già incrociato al rialzo, quindi non mi hanno ancora confermato un nuovo massimo, perché non hanno nuovamente incrociato al ribasso, ma io sono già su un massimo che è superiore rispetto al precedente, quindi la lettura grafica che io vado a fare, quindi la lettura tecnica è in contrasto con la mia lettura ciclica, nel momento in cui sono in contrasto non posso intervenire e quindi attendo che ci sia una conferma, una conferma ovviamente poi di movimento, questa conferma sarà data probabilmente, almeno da come si stanno attualmente configurando e organizzando qui le candele, vediamo che probabilmente con le prossime candele avremo qui una conferma di minimo, quindi l'inizio di una fase di salita e dunque questo che cosa mi comporterà? Che sul grafico orario io andrò non più a ricercare i massimi, dovendo entrare, dovendo operare in un trend rialzista, ma andrò a ricercare il prossimo minimo, quindi sul prossimo minimo, quindi qui avremo un incrocio di medie, la definizione di un nuovo minimo, l'incrocio di medie al rialzo, sul prossimo minimo, quindi sull'incrocio nuovamente al rialzo delle medie, io inizierò a ritracciare il mio nuovo canale di trend, poi lo vedremo nelle slide successive e quindi interverrò al rialzo, dunque la logica di questo meccanismo è quello di definire qual è la tendenza dei mercati, ovviamente mettendola, la tendenza appunto del grafico, del ciclo scusatemi, mettendola a confronto con quella che è una lettura tecnica che ovviamente non viene abbandonata, perché noi abbiamo prima di tutto una priorità intanto tecnica, le due letture devono coincidere, in realtà non esiste una vera e propria priorità dalle due concetti, i due concetti devono comunque coincidere, è importante valutare un aspetto importante, un altro elemento, un'altra considerazione, a questo punto noi una volta che abbiamo individuato il nostro ciclo superiore possiamo anche in qualche modo anticipare l'incrocio delle medie, noi sappiamo che le medie sono anche un po' in ritardo, perché traccio delle trend line che mi definiscono, quindi che mi partiranno dal minimo di inizio del ciclo, passeranno sui minimi centrali che ci sono, nel momento in cui la trend line viene rotta, questa trend line, questa rottura diventa vincolante, perché mi va ad indicare appunto che i prezzi stanno andando in una fase discendente del ciclo, che quindi è finita la fase di salita e ci stiamo orientando verso la fase appunto di, è iniziata una fase di ribasso, tra l'altro vediamo, guardate, rottura della trend line, pull back sulla media e quindi inizio del movimento ribassista, tra l'altro qua ci ha dato diverse occasioni di ingresso nel movimento e dunque esecuzione di un'operazione short, poi ovviamente adesso andremo a vedere poi nella fase finale della strategia come definiamo eventualmente i punti di ingresso e gli eventuali target da valutare. Io passerei alle slide perché vorrei a questo punto introdurre alcuni concetti appunto per mettere insieme l'analisi tecnica e l'analisi ciclica insieme appunto. Quindi per me una volta che sono riuscita ad individuare il concetto ciclico, quindi l'aspetto ciclico del mercato, per me questi massimi e questi minimi ciclici appunto che io ho individuato dal punto di vista ciclico, naturalmente anche il trend, sappiamo che il trend è un ordinatore e nella stessa identica maniera un massimo, un minimo che è stato segnato su un ciclo trimestrale ha una validità superiore rispetto a un massimo e minimo che magari viene evidenziato su un grafico, su un ciclo settimanale o su un ciclo giornaliero. Quindi comunque una volta, queste considerazioni valgono su tutti i time frame, naturalmente io i miei massimi e i minimi li vado a ricercare nel mio ciclo operativo, perché mi costituiscono dei punti di ingresso e degli eventuali target. Quindi per me i massimi e minimi ciclici sono dei supporti e delle resistenze primarie, per me hanno più importanza le resistenze che traccio sulla base degli ultimi massimi e minimi, piuttosto che magari le resistenze tracciate secondo criteri di analisi tecnica che tengono conto di un maggior numero di dati che quindi magari fanno riferimento anche a valori che sono stati toccati molto tempo prima dai prezzi. Quelle sono rilevanti, ma non sono prioritarie, come invece possono essere quelle riferite invece a massimi e minimi ciclici. Di conseguenza anche le trend line e i canali io li individuo su base ciclica, quindi per me i massimi e minimi che io vado ad individuare sono i punti dai quali faccio passare effettivamente le trend line e i miei canali, questo lo dico perché nell'analisi tecnica molto spesso abbiamo il problema, tante persone anche a lezione vi chiedono come devo fare a tracciare questa trend line, qual è il massimo, qual è il minimo che devo effettivamente andare a considerare, adesso lo vedremo, considereremo quelle che sono ciclici. Quindi la trend line ciclica, come vi abbiamo fatto vedere sul grafico, parte dal minimo iniziale e passa da quello centrale, una volta che viene rotta la sua variazione, la sua violazione al ribasso mi indica che siamo entrati nella fase ribassista del trend. Dunque a questo punto ancora un'altra considerazione che dobbiamo fare, ovviamente adesso abbiamo visto come noi riusciamo ad individuare i cicli attraverso le medie, quindi come facciamo la taratura del ciclo, la taratura delle medie per individuare i cicli che a noi interessano, però ovviamente i cicli possono essere individuati anche con altri oscillatori, tipo lo stocastico, tipo il MACD, tipo l'RSI, bisogna però a quel punto andare a tarare gli oscillatori, anche in questo caso in maniera compatibile con i movimenti del mercato, oppure andare ad individuare, una volta che magari l'avete fatto con le medie, andare ad individuare qual è il time frame che meglio rappresenta il ciclo che a noi serve, sia di analisi che appunto come ciclo operativo. Questo poi è un approfondimento che ovviamente lascio fare a voi, non è questa adesso la sede per poter operare, però comunque gli oscillatori ci indicano, tra l'altro avete modo, se mettete a confronto tutti questi oscillatori avrete anche modo di individuare qual è quello che secondo voi è più veloce, è meno ritardato rispetto agli altri. Quindi a questo punto vorrei ritornare nuovamente sui grafici per appunto dare un'occhiata a quelli che sono gli elementi ciclici. Allora per me, io ovviamente stiamo partendo, stiamo passando a, stiamo partendo diciamo da un ciclo superiore attualmente, un ciclo settimanale che è quello che mi dà la direzione da seguire nelle mie operazioni intraday, quindi io seguo la direzione che mi viene definita dalla fase del ciclo settimanale in cui mi trovo, quindi per me è molto importante ovviamente una lettura del ciclo settimanale per cercare di capire qual è la direzione da prendere, per cercare di capire anche la forza del movimento. Da questa analisi io andrò a capire se opererò con un target fisso, con un target aperto, se riuscirò, se individuerò dei livelli di breakout oppure no, anche il livello di aggressività che posso avere in alcune operazioni. Faccio un esempio, in questo caso noi vediamo che qui abbiamo il ciclo, vediamo se riesco a prendere il pennarello, dunque qui noi abbiamo questo ciclo, questo primo ciclo qui ribassista che è stato individuato, qui però abbiamo un'indicazione importante, allora qui noi abbiamo questo minimo che in realtà come vediamo è un minimo che è inferiore rispetto a quello che è stato segnato qua, quindi abbiamo una fase di indebolimento intanto del trend, abbiamo una fase di rallentamento che se vogliamo qui è tracciata anche, tracciamo le linee, la possiamo intanto individuare se vogliamo, ecco qua, da questa facciamo anche il rettangolo per capire meglio, per evidenziare meglio, vediamo che ci troviamo in una fase di rallentamento, il segnale dunque l'avevo avuto già dal fatto che il minimo comunque è stato segnato ad un livello superiore, quindi una fase di rallentamento della fase ribassista, qui però abbiamo un massimo che comunque è inferiore rispetto al massimo precedente, mi dà quindi una conferma di un movimento di lateralità comunque, quindi di appunto di rallentamento di questo movimento, quindi io so anche quando andrò ad implementare le mie operazioni che ho dei target, in questo caso ci stiamo muovendo nell'ambito di una appunto di una sorta di congestione, i target quindi sono 0,8420 come vediamo e 0,8340 per i movimenti short nel caso il ciclo va a ribasso, la rottura quindi una ripresa del movimento la valuto come succede appunto come facciamo nell'analisi tecnica, alla rottura di questi due livelli, quindi questo mi è importante intanto da capire. Dopodiché una volta che ho individuato la fase scendo sul mio ciclo operativo, come appunto avevo detto prima, cancelliamo un attimo, quindi una volta che sono scesa sul mio ciclo operativo vado a tracciare, vediamo che qui parto intanto dal massimo di riferimento, qui era stato segnato il 7 di dicembre o una fase di ribasso, il 7 di dicembre, il 7 di dicembre io vado indietro nel tempo, parliamo di un movimento che è partito da qua, quindi dobbiamo tener conto di quelli che sono intanto una tendenza di lungo periodo che noi andiamo a valutare. Nell'ambito poi della tendenza di lungo periodo, quindi io vado a vedere il ciclo più vicino, la parte più vicina del ciclo che io sto valutando per capire dove mi trovo. Il ciclo del 14 iniziato un massimo il 14 dicembre, dunque il 14 dicembre, allarghiamo un attimo, questo proprio operativamente come opero, come valuto il 14 dicembre io sono qua, quindi stiamo parlando di questo massimo, quindi nell'ambito di questo movimento più lungo io vado a tracciare una trend line che si riferisce all'ultima fase del movimento che vado a seguire, di solito la traccio in colore differente appunto per distinguerla dalla trend di lungo, dalla trend line di lungo periodo. Quindi che cosa ho? Qui ho una serie di minimi che vado ad individuare sul grafico, sul ciclo giornaliero, i minimi sono questi, vediamo, li abbiamo ben evidenziati qui, qui vediamo dall'incrocio delle medie si vede bene, quindi sono dei minimi crescenti, quindi una volta che ho dato questa lettura traccio il mio famoso canale anche per definire appunto quelli che sono i miei target di movimento. Quindi nell'ambito di questo canale vediamo che io entro a ribasso su qualsiasi, su tutti i massimi, ovviamente faccio dei filtri perché per esempio qui nel momento in cui io ho la conferma del massimo, vediamo che la conferma ce l'ho quando la candela si è chiusa e ha già toccato il mio canale, quindi di conseguenza questo è un primo filtro che faccio nella mia operazione, se ha già toccato il target io non entro, sono ormai molto fuori nel movimento, a meno che appunto poi i prezzi non ritornano su e quindi riprendo il movimento ribassista, quindi però questo avviene con il massimo successivo, quindi dove vado a entrare a questo punto è questo, è questo punto per intervenire qui perché ancora sono lontana dal mio target e così via via. A questo punto mi accorgo come abbiamo detto prima che i prezzi saranno già in questa fase di salita dove già sul ciclo giornaliero mi è stato segnato un nuovo minimo che in qualche modo non ha modificato la mia lettura perché è ancora un minimo decrescente, però nella fase di salita già il mio grafico è stato sporcato, è stato sporcato perché abbiamo superato la nostra trend line, a questo punto come mi comporto? Però i prezzi sono avvicinati alla trend line di lungo periodo, bene a questo punto allora la mia lettura è questa, se io vado a studiare sul grafico a 4 ore, a questo punto se so che lì ci siamo avvicinati alla nostra trend line, aspetto che venga finito di segnare un nuovo massimo su questo cross perché è probabile che i prezzi si avvicinino alla parte alta del canale o comunque non ho una grande probabilità che i prezzi inizino subito una fase di discesa perché siamo in una situazione di lateralità, ecco dunque che l'analisi tecnica viene a coincidere, viene ad associarsi alla mia analisi ciclica, quindi non sono disgiunte tra di loro, quello che faccio dunque su questo cross e questo mi permette di avere un'attendibilità abbastanza elevata, parliamo di un 70-80% della nostra operatività, a questo punto io intervengo non appena sarà segnato un nuovo massimo perché vado in quest'ottica ribassista, preferisco in un'ottica di trend ribassista, tenendo conto di questa fase di congestione e di lateralità, preferisco dunque scegliere un movimento in trend e quindi un movimento sempre nel canale di congestione però short, quindi non vado a beccare il mio movimento sulla base del canale long, ma entro short, quindi in qualche modo lavoro nella lateralità però tenendo conto di quella che è la direzione principale del trend. Rispondo a una domanda che solitamente mi fanno, se questa tecnica può essere utilizzata anche per andare contro trend, ovviamente così come succede con qualsiasi altra tecnica, con qualsiasi altra strategia si può andare contro trend, però andare contro trend vuole dire avere una minore affidabilità nei risultati, una minore attendibilità dell'operazione e anche dei target più contenuti, più ristretti. Io personalmente non opero mai contro trend perché di solito quando io riduco la attendibilità della mia, l'affidabilità, la probabilità della mia operazione cerco di aumentare il risultato, il vendimento. Se ad esempio mi trovo con una tecnica che ha un'attendibilità di un 30%, cosa che succede per esempio nelle tecniche di breakout, se la mia affidabilità è del 30%, il mio rapporto rischio e rendimento dovrà essere almeno di 1 a 3 per potermi rendere profittevole nel lungo periodo. Dunque se mi trovo contro trend e entro con una probabilità inferiore al 70-80% e con anche una possibilità di risultato inferiore, allora io la escludo come operazione perché nel lungo andare non mi rende profittevole, preferisco dunque entrare perché già nella mia strategia intraday il rapporto rischio rendimento è di 1 a 1, abbiamo un'attendibilità di un 70-80%, manteniamoci stretti 70, un 70% con un rapporto rischio rendimento 1 a 1, se io vado contro trend vuole dire che ho un'affidabilità inferiore al 70%, il rapporto rischio rendimento dovrebbe essere superiore per potermi rendere profittevole, ma siccome io entrendo un rapporto 1 a 1, in contro trend dovrei avere un rapporto inferiore e quindi per me non entro mai contro trend, proprio a priori, a prescindere. Quindi adesso vorrevo sintetizzare, andiamo un attimo così vado avanti con la presentazione, sintetizzare la strategia alla fine finale di come dovrà essere, almeno questa intraday, quella multiday si sarà fatta nella stessa identica maniera, con le stesse considerazioni che abbiamo fatto fino ad ora, però tenendo conto che il ciclo operativo sarà il ciclo settimanale, mentre il ciclo dominante, il ciclo che ci dà il trend sarà il ciclo trimestrale, sarà calcolato nella stessa identica maniera. Quindi rimaniamo adesso aderenti alla nostra strategia intraday, dunque intanto consideriamo, abbiamo detto come ciclo dominante il ciclo settimanale, che mi definisce la direzione, abbiamo visto come la definiamo, passiamo al nostro ciclo operativo, il ciclo operativo mi definisce i tempi di ingresso e la gestione della posizione, adesso vedremo come, poi definiamo i massimi e i minimi ciclici che per me sono degli importanti riferimenti per lo stop e per il target. Dunque a questo punto andiamo di nuovo sui grafici e andiamo a verificare come possiamo fare questa strategia. Allora intanto dobbiamo tener conto che dobbiamo partire da un presupposto importante, noi sappiamo che supponiamo di essere un trend rialzista, quindi il trend rialzista è dato da una sequenza di massimi e di minimi crescenti. Sappiamo appunto, adesso l'ho fatto in maniera molto arrotondata, ovviamente le candele non sono così arrotondate, però è importante intanto capire il concetto. Quindi abbiamo detto in un trend rialzista, noi abbiamo una sequenza di massimi e minimi crescenti e ovviamente io devo entrare sui minimi e puntare sul massimo come obiettivo ovviamente di target. Diciamo che abbiamo diverse due strade, due percorsi da seguire. Io potrei entrare all'ingresso nell'inizio del ciclo, quindi nella fase di minimo e uscire quando il ciclo termina, quindi quando mi viene segnato un nuovo minimo, però questo è abbastanza specie nella strategia intraday, mentre questa è una considerazione che faccio nella strategia multiday, perché seguiamo, abbiamo uno stop più ampio e quindi posso seguire un'evoluzione più ampia del movimento, nella strategia intraday io invece non utilizzo questa tecnica, perché rischio, poiché i movimenti, le correzioni possono essere forti, rischio che nel momento in cui mi è finito il nuovo ciclo, io o sono magari non becco nulla, mi trovo a zero, oppure addirittura mi trovo ad un livello inferiore, un livello inferiore no, perché comunque avrei spostato, avrò spostato lo stop a zero, però comunque rischio quindi di non avere una grande profittabilità, quindi a livello di ottimizzazione dei risultati non sarebbe la strada migliore da seguire. La strada migliore da seguire è quella di cercare ovviamente di beccare qual è il massimo, questo purtroppo nessuno lo sa, nessuno può sapere, perché se non a livello più o meno probabilistico posso immaginare in funzione dei movimenti che sono stati realizzati in passato, qual è la strada, qual è l'ampiezza dei movimenti medi, dei cicli, però alla fine se voglio avere la conferma di questo movimento potrei uscire sulla conferma di massimo, quindi nel momento in cui mi viene segnato un minimo, so che entriamo sull'incrocio delle medie e esco sull'incrocio a ribasso delle medie. Quindi vuole dire che io ovviamente non riesco a prendere l'ingresso sul minimo stesso, entrerò sulla conferma del minimo, quindi entrerò qui, non riesco a beccare il massimo perché esco sulla conferma, quindi ovviamente quello che mi prendo è questa parte del movimento, cerco ovviamente di, sono consapevole che devo lasciare una parte del movimento al mercato. In un'ottica di ottimizzazione nella nostra strategia intraday, quello che io vado a fare è cercare di ridurre questo spazio che lascio al mercato ovviamente, per cercare di ottimizzare i risultati, per poterlo fare l'ho fatto attraverso uno studio di quello che è il movimento medio dei prezzi, che è dato e rappresentato dalla volatilità dei prezzi, per cui il movimento medio alla fine viene comunque tarato in funzione delle condizioni del mercato. Un indicatore che io infatti utilizzo è l'ATR, l'ATR per esempio se noi andiamo a valutare, eccolo qua, l'ATR mi dice di quanto ovviamente i prezzi si muovono nel time frame di riferimento, quindi ovviamente adesso vi sto facendo vedere il grafico a 4 ore, ma il nostro ciclo giornaliero l'abbiamo valutato sul grafico orario, per cui ovviamente avremmo il riferimento dell'ATR sul grafico orario. In questo caso stiamo operando sul grafico a 4 ore, l'ATR è di 37 pip, quindi 40 pip sono lo spazio, sono il movimento che io mi posso attendere da questo cross, normalmente dal minimo, questo sulla base di valori medi che abbiamo calcolato, in funzione dello studio ovviamente che abbiamo fatto in passato sui cross, i valori medi mi dicono che dal minimo di riferimento fino al massimo di riferimento i prezzi si muovono di 2 ATR, di conseguenza se il movimento si è già realizzato nel momento in cui io ho la conferma di massimo, perché a volte come vediamo il minimo viene confermato con una candela già ampia, per cui magari il movimento l'ho già realizzato, sono stati già percorsi 2 ATR di movimento, a quel punto io evito di effettuare un'operazione. Quindi passando a quello che è il target fisso, il target medio di movimento che è dato dall'ATR, io entro sul minimo e mi metto un target fisso, consapevole ovviamente che ci sono dei casi in cui i movimenti possono andare oltre, però questa è una tecnica che è attendibile nell'80% dei casi, 70-80% dei casi, per cui io preferisco essere nella direzione giusta e col target giusto nel 70% dei casi. Naturalmente dunque il massimo ciclico mi costituisce un punto di riferimento per il mio target, così come il minimo invece, il minimo ciclico mi costituisce un punto di riferimento per il mio stop, per cui dovendo mettere uno stop sotto al minimo, dovendo poi di conseguenza avere un rapporto rischio-rendimento di 1 a 1, quindi ovviamente devo definire nel momento in cui ho la mia conferma di minimo, devo definire un punto di ingresso adeguato che vi permette di mantenere questo rapporto di rischio-rendimento di 1 a 1, se il mercato non tocca quel prezzo, io non intervengo, non effetto l'operazione, se lo tocca mi va bene e becco, cerco di essere profittevole nel 70-80% dei casi. Questa è la tecnica che utilizzo mettendo insieme l'analisi tecnica e l'analisi ciclica, ho messo i miei recapiti intanto di miei contatti per qualsiasi domanda, approfondimento che vogliate fare in relazione appunto al mercato valutario, ripeto il mio indirizzo e-mail manuela.negro.tradingroomroma.it. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a te stesso. Vedo Valter si rissume un po' quello che hanno detto altre persone, sicuramente molto preparata, però mi vado a riguardare la registrazione per riprendere dettagli. La registrazione, ripeto, su www.wistos.it trovate il nostro canale YouTube in basso a destra e cliccando su video, poi troverete in ordine cronologico tutti i video, quindi la registrazione sarà in atto a sinistra. Però, ripeto, andate su www.swistos.it sotto la voce assistenza webinar, vi scrivete, quindi poi noi dal 5 dicembre, Manuela, alla sessione alle 9.15 la mattina, dura circa 30-40 minuti a seconda e quindi approfondite, c'è la logica, l'approccio su base quotidiana, questo che sicuramente paga nel tempo, quindi mi raccomando, andate e iscrivetevi e partecipate, poi anche di quelle, mettiamo la registrazione vera, però se riuscite a partecipare in diretta ovviamente si può interagire, si possono fare domande, poi Manuela va a vedere in tempo reale quello che è sui mercati finanziari, quindi sicuramente partecipare alla diretta è molto, molto più valido. Grazie Manuela per la spiegazione e poi se scorrete abbiamo già con Manuela un prossimo appuntamento già caricato sul nostro sito a gennaio, quindi anche su quello ovviamente vi potete iscrivere. Se puoi ancora far vedere una oltre a volte i contatti, così se qualcuno ha fatto approfondimento sui tuoi contatti diretti. Perfetto. Manuela.negro, chiocciolatradingroomroma.it è l'indirizzo al quale potete scrivere, vi risponderò nel giro di pochissimi minuti, insomma il prima possibile. Grazie mille Manuela, buona serata a tutti, buon trading. Grazie, buona serata, buona serata.